Musica Bentornati all'appuntamento con la rubrica 20 minuti Veneti, spazio di approfondimento di Piave TV. Oggi come ospite in studio abbiamo il vice governatore della regione del Veneto Gianluca Forcolin. Bentornato nei nostri studi. Grazie. Bene, allora adesso vorrei fare un po' il punto con lei, visto che è una delle prime volte che torna a trovarci dopo questo incarico che ha avuto nella regione del Veneto, di quelle che sono le problematiche del nostro territorio, perché lei comunque rimane strettamente legato al territorio, riceve nel San Donatese. E ci sono dei temi molto importanti dei quali ci siamo occupati come televisione la scorsa estate, anzi è stato un po' un tormentone. E lei era uno dei sindaci diciamo in prima linea per quello che era la battaglia per l'ospedale unico. Ora l'ospedale unico non si farà più. Vorrei fare con lei un po' il punto della situazione anche per fare chiarezza ai nostri telespettatori e per spiegare innanzitutto perché l'ospedale unico, questo progetto è fallito. La politica territoriale e quindi la conferenza dei sindaci non ha saputo dare in tempi certi quelle risposte che la regione chiedeva, ossia la regione si era orientata verso l'ospedale unico perché la sanità del futuro è sanità che crea eccellenze in tutti i reparti, con professionalità e quindi con medici esperti ma anche all'avanguardia, è messi nelle condizioni di poter operare con dotazioni e con strumenti efficienti ed efficaci rispetto ad oggi una distribuzione territoriale che vede i presidi di Jesolo, di Sandonà, di Porto Gruaro oltre alla Rizzola quindi in una situazione che ha delle dispersioni di economia e quindi di fatto l'ospedale unico era la soluzione ideale proprio per arrivare a ottimizzare tutte queste patologie nei diversi reparti. Il problema più grosso, più volte ribadito anche da lei, era il fatto che il governatore della regione del Veneto aveva lasciato a voi la facoltà di decidere e scegliere il sito per l'ubicazione di questo nuovo ospedale e in realtà voi come conferenza dei sindaci del Veneto orientale non avete... Io ero uno dei più grandi sostenitori ovviamente dell'ospedale unico, ho cercato in tutte le salse di poter arrivare a un risultato condiviso che fosse quello di portare a casa appunto un ospedale che desse a queste comunità, a questi 200.000 abitanti del Veneto orientale una possibilità per il domani. La regione aveva dato questa opportunità, i sindaci non hanno saputo cogliere, non hanno voluto coglierla credo che i nomi e cognomi siano ben evidenti ai cittadini, nel senso che comunque abbiamo visto che questo rimpallo Sandonà-Portogruaro non ha portato a nulla di buono, oggi Portogruaro non c'è neanche più e speriamo insomma che almeno ci sia condivisione in questo tipo di lavoro che ci sarà da qui ai prossimi mesi. La regione Veneto avendo dato un termine giustamente a questo tipo di soluzione, non avendo trovato risposta ha nella condivisione con il presidente Zaia detto bene non mi avete dato questa opportunità, non l'avete scelto come territorio la regione allora decide di mantenere i due plessi ospedalieri, quindi Sandonà e Portogruaro con Jesolo che ovviamente ha già però ormai le sue finalità di dire almeno adesso ricalibriamo quelle che sono le schede ospedaliere previste dalla legge regionale stessa e cerchiamo di portare in commissione per un parere una equa distribuzione tenendo conto che non avendo portato a casa l'ospedale unico non possiamo avere ovviamente tutti i reparti d'eccellenza in tutti gli ospedali per cui mettetevi comunque il cuore in pace nel senso che sappiate che se non avete preso una decisione l'altra è quella di razionalizzare e quindi mettere delle eccellenze a Sandonà, a Portogruaro e su Jesolo che ha già una sua connotazione ormai chiara che è quella della riabilitativa eccetera e quindi diciamo adesso adoperatevi al meglio per portare a casa queste schede ospedaliere che tengano conto delle esigenze però del bilancio quindi di razionalizzazione stiamo lavorando su questo, il tema politico è importante, speriamo di trovare condivisione anche dal punto di vista dell'opposizione oggi in consiglio regionale perché veramente aver perso quella opportunità è una delegazione personale da ex sindaco però spero che almeno non si butti via tutto e si riesca a recuperare almeno nell'arco temporale così breve della commissione delle schede ospedaliere che diano soddisfazione ai nostri cittadini siano essi sandonatesi, siano essi del portoguarese del territorio insomma qui del Basso Piave e appunto a tal proposito volevo chiederle perché questo ospedale unico che tanto era stato decantato, proposto eccetera come l'eccellenza garantiva un qualcosa in più all'utenza quindi si andava incontro all'utenza, tantissimi anni arrivano in progetti ora spero che la sanità, cioè il progetto sanitario non cambi nel senso che ci sia comunque da parte della regione del Veneto una visione, un'ottica di garantire le eccellenze sicuramente ci saranno, il problema è che avremmo avuto un unico presidio un unico plesso ospedaliero con tutte le eccellenze quindi il cittadino del Veneto orientale prendeva la macchinina e andava e trovava tutto un po' come l'angelo a mestre esatto, un polo ospedaliero importante dove trovava tutto oggi invece ci sarà una divisione in modo importante però perché il modello sanitario Veneto dobbiamo dirlo è un modello d'eccellenza da veramente da trapiantare in tutto il sistema paese per cui su questo non vi è problema l'unico problema e l'unica appunto amarezza è quella legata a delle strutture che sono comunque delle strutture vecchie per cui nel vecchio vuol dire che avrà bisogno comunque di importanti investimenti dal punto di vista strutturale dal punto di vista dei macchinari e delle dotazioni per cui partiamo a rattoppare un po' delle situazioni che ci sono cosa che non sarebbe avvenuta perché un investimento importante di 130-140 milioni di euro su un ospedale unico, nuovo avrebbe messo il timbro per i prossimi 20-30 anni a una situazione sicuramente d'eccellenza perché quando hai una patologia, quando hai una problematica prendi la macchina e vai a prescindere dai chilometri D'altro canto me l'ha detto lei stesso perché se dice che c'è il pericolo di fuga verso il Friuli vuol dire che la gente comunque si muove la gente ricerca D'altro vediamo bene che la gente cerca comunque la migliore soluzione quindi se uno ha un problema diciamo oncologico non è che va a chiedere a San Donà o a Porto Duaro va ad Aviano e non chiede nulla alla politica per cui ci siamo fatti tante paturnie su questioni che invece secondo me erano superabili con l'occasione dell'ospedale unico Quindi la regione del Veneto punta comunque all'eccellenza per la sanità mantenendo i presidi ospedalieri che ci sono attualmente Altra domanda sempre relativamente all'argomento i soldi che sarebbero stati spesi per la costruzione di un ospedale nuovo quindi che fine faranno? Verranno utilizzati per ristrutturare questi edifici? In realtà dobbiamo dire che l'investimento sarebbe stato un investimento importante che teneva conto anche di alienazioni di patrimoni esistenti quindi teniamo conto che l'ospedale di San Donà come quello di Porto Gruaro come quello di Jesolo in particolar modo quello di Jesolo in un'area così importante perché stiamo parlando di un ospedale che è frontemare quindi ha delle particolarità ovviamente che dal punto di vista turistico e dal punto di vista immobiliare sono importanti avrebbe visto una fetta di queste strutture vendute e quindi con delle risorse importanti che non ci sarebbero più perché ovviamente se i plessi rimangono tali quindi quelle risorse non ci sono D'altra parte la rimanente parte sarebbe stata investita dalla Regione Veneto sotto forma di mutuo quindi indebitamento con una quota a parte una quota di ammortamento annuale che andava esattamente a coprire quelle che sono oggi le spese necessarie per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria di ospedali che invece sono vecchi quindi se oggi spendiamo 7-8 milioni all'anno per mettere a posto i tre ospedali quei 7-8 milioni all'anno sarebbero stati la quota capitale del mutuo investimento per la nuova struttura quindi di fatto non sarebbe cambiato nulla per le casse regionali in quanto oggi si pagano in manutenzione e efficientamento dall'altra parte si sarebbero pagati in quota capitale su una struttura nuova e dall'altra parte il residuo con l'alienazione di una parte degli ospedali che sarebbero stati venduti mantenendo però perché anche questa è una cosa da dire a chi ci ascolta non è che avremmo venduto l'ospedale di San Donato di Portoguaro di Jesolo quindi togliendo anche quelli che sono i servizi normali quelli degli ambulatori quelli dei servizi medici minimali quindi quelli sarebbero comunque rimasti quindi è stato fatto un po' anche di terrorismo devo dire sui cittadini dicendo vanno via scappano gli ospedali non ci sono più quindi devi andare chissà dove per curarti non era questa la soluzione diciamo che noi nel nostro piccolo tentiamo di dare una buona informazione di dare voce un po' a tutte le parti politiche c'è qualcuno che non è sempre così buono rimanendo sempre sul tema ospedale ultimissima domanda una delle altre figure principali che proponeva appunto l'ospedale unico come diciamo una soluzione importante buona positiva per i cittadini era il direttore dell'ASL numero 10 dottor Carlo Bramezza sostenendo tra le varie cose che potevano spingere alla costruzione del nuovo ospedale il fatto che questi ospedali essendo vecchi hanno un costo di manutenzione davvero molto alto è quello che dicevo avremmo coperto il costo dell'investimento ma rimane quindi la spesa per mantenere questi sì questa rimane con il presidente Zaia è una criticità è una criticità abbiamo già messo comunque in preventivo un piano di investimenti importanti per i nostri ospedali quindi da qui ai prossimi anni ci sarà comunque un potenziamento rispetto anche a quelle diciamo eccellenze che vogliamo portare sul Sandonatese e sul Portoguarese quindi ovviamente la sanità rimarrà sicuramente d'eccellenza resta l'amaro di non aver trovato in quella soluzione che era praticamente una lungimiranza territoriale importante che io ritengo fosse più valida dei due presidi hanno deciso di non decidere pertanto il presidente Zaia ha dato questa linea che noi adesso cerchiamo ovviamente di ottimizzare attraverso il nostro lavoro sul territorio rimaniamo in tema soldi soldi e sanità è un po' tutto collegato perché da Roma arrivano le notizie che i prossimi tagli saranno appunto sulla sanità ma tagli ce ne saranno ancora quindi vice governatore per il territorio si preannuncia un autunno triste e freddo Io credo che insomma il bilancio oggi noi abbiamo un dato reale la regione Veneto ha avuto dei tagli questa settimana confermati per 240 milioni nella sanità Veneta quindi 240 milioni non sono bruscolini e vuol dire tagliare anche ospedali esistenti tagliare situazioni che sono appunto importanti dall'altra parte il bilancio regionale ha visto dei tagli anche quest'anno per 50 milioni di euro per quanto riguarda la macchina invece regionale quindi c'è solo il mago fiorentino che racconta ogni giorno che le cose vanno bene c'è la ripresa c'è tutto quanto il pifferaio magico l'hanno trasferito da Arcole credo a Firenze perché se poi questi sono i risultati insomma dobbiamo dire che la regione Veneto ormai ha un bilancio va bene raschiare il barile va bene lacrime e sangue va bene tutto però io credo che la cura dimagrante debba avere un limite e soprattutto i cittadini veneti che pagano lacrime e sangue per i tributi e per le tasse che diamo a Roma poi se questo è il ritorno effettivamente c'è qualcosa che non funziona quindi quando Renzi dice una cosa e poi viene trasformata in Veneto con tagli di questa portata costringendo regione ma anche sindaci ad alzare eventualmente la pressione tributaria con l'Imu con la Tasi eccetera vuol dire che qualcosa non va ma soprattutto quel Veneto che dà 21 miliardi all'anno di differenza di delta fra quello che riceve e quello che paga in termini di tasse credo che insomma oggi la misura sia colma pertanto insomma dovremmo invertire questa rotta in regione le assicuro che è veramente difficile far tornare i conti su un bilancio lei è anche assessore appunto al bilancio quindi abbiamo diciamo la voce diretta dalla regione del Veneto questo è il tema infatti è triste è quello che stiamo dicendo è un po' doloroso è triste e doloroso però è vero perché da una parte ci sono i sindaci che sono in difficoltà con i propri bilanci e lei è stato anche sindaco quindi sa bene hanno trasferimenti esatto contributi dalla regione che a sua volta non può pagare gli enti locali a cascata perché ha i balzelli del patto di stabilità quindi i blocchi in questo senso di cassa ma tutti quei tagli e i trasferimenti che oggi mettono veramente in ginocchio quindi chi la racconta chi è contento chi è sempre col sorriso in bocca è Renzi ma credo che sia l'unico che sta prendendo in giro un po' tutti quindi per il Veneto vice governatore? per il Veneto ci sarà un autunno difficile dovremmo lavorare anche sul tavolo conferenza Stato-Regioni io la prossima settimana sono proprio giù a Roma per questa questione perché è un tema delicato col presidente Zaia e quindi noi facciamo la nostra parte però di fatto poi c'è un governo che vota in aula e quindi questo è l'appello che faccio anche ai parlamentari veneti che sono a Roma che tengano conto che non si può alzare la manina a Roma per i tagli e poi venire qua a fare i palladini della giustizia quando si va sul territorio o sui talk show territoriali è un unico metro unica misura cerchiamo di portare a casa un risultato e soprattutto far lobby far squadra perché il Veneto non può più sopportare questo tipo di politica rimaniamo in Veneto rimaniamo nel territorio vice governatore con un altro tema caldo dell'estate 2015 l'estate che si sta per concludere calda non solo dal punto di vista meteorologico perché questa è stata una delle estati più calde mi riferisco al tema profughi soprattutto nel territorio di Eraclea Mare tantissimi poi peraltro sono stati politici che sono venuti a visitare il residence che ospitava da Salvini stesso con il governatore della regione Zaia ma anche poi l'onorevole Melloni tanti si sono occupati di questo addirittura l'onorevole Melloni aveva promesso in un'intervista a me che avrebbe fatto un'interrogazione parlamentare come siamo messi il problema profughi a Eraclea Mare rimane la stagione si è conclusa è stato ospite anche uno dei primi Angelo Faloppa che è presidente dell'Ascom Conf Commercio dicendo che Eraclea Mare non era proprio il posto dove in serie tanti tantissimi perché poi a un certo momento era oltre 200 è una questione che Eraclea ha subito per tutta l'estate hanno subito i residenti nella promiscuità di quel residence residenti che hanno fatto investimenti hanno fatto acquisti e che hanno visto depreciare quello che è l'immobile quindi l'investimento che avevano fatto ma d'altra parte anche tutti gli operatori economici che ovviamente hanno visto diminuire per questo effetto che è deterrente e dobbiamo dirlo con una presenza così massiccia di profughi che sono migranti economici per lo più perché dobbiamo dirlo io la smetterei anche di chiamare quasi profughi perché finché la prefettura non ha fatto le sue verifiche e ha determinato quali sono le effettive caratteristiche di queste persone li chiamerei clandestini perché molti di questi quasi tutti ventenni in grande forma fisica ho avuto veramente l'impressione che di guerra questi non l'abbiamo mai vista quindi di fatto si chiamano migranti economici ma quello che è che è quell'assurdo è che la prefettura e il ministero degli interni e quel ignobile ministro che oggi abbiamo dell'interno il ministro Alfano perché credo che il ministro Alfano sia uno dei peggiori ministri che la storia ricordi non ha un minimo di metro di misura ma soprattutto non ha in cognizione di quelle che sono poi i numeri ma soprattutto il rimedio a questo tipo di invasione perché Eraclea è finita la stagione e questi sono ancora là sono ancora là non c'è ancora non si sa quanti sono stati classificati come profughi e quanti sono invece clandestini perché d'altra parte se sono ancora là ma questo scusi da chi dipende cioè chi è che ha il compito la prefettura la prefettura deve segnalare e dovrebbero aver colto il problema entro 30 giorni tu devi determinarmi se questa persona che è arrivata arriva dalla Siria arriva dalla guerra o arriva dal Marocco ed è qua in cerca di fortuna e ad oggi perché 30 giorni sono passati da un pezzetto ad oggi si sa di racclamare non si sa perché sono ancora là e la norma dice che se uno è clandestino deve essere riaccompagnato a casa quindi è clandestino invece purtroppo c'è un pressapochismo totale sono arrivati continuano ad arrivare la prefettura che dice prima dovete rispettare la quota dei 5 mila in Veneto cioè uno ogni mille abitanti adesso quell'uno è diventato 1,6 perché non sono più 5 mila sono 9 mila devi rispettare la quota ma qual è la quota è una quota variabile perché è in funzione dei barconi che arrivano quindi se arrivano altri 8 barconi non sarà più 1,6 ma sarà 2 poi sarà 3 quindi è giusto e corretto i sindaci non possono fare una programmazione sulla variabilità devono fare la programmazione su dati certi e allora trovi la collaborazione ma qua non c'è collaborazione perché non ci sono dati c'è una invasione punto e basta e a proposito di sindaci che cosa sta accadendo con Lanci e con Bitonci che cosa sta accadendo sì Bitonci è stato credo il primo ma penso ci sarà a ruota ci saranno altri sindaci che usciranno da questo Anci l'Anci è l'associazione nazionale dei comuni d'Italia praticamente è un sindacato dei sindaci che dovrebbe tutelare e far da collante con il governo e quindi con l'ente centrale per quelle che sono le difficoltà oggettive oggi dei sindaci e credo che se mettiamo in conto i tagli che continuamente i comuni hanno sui trasferimenti tutti gli oneri riflessi legati ai profughi a questa invasione perché noi contiamo e fanno vedere ai cittadini 35 euro al giorno del profugo o del migrante economico ma non dicono tutti i costi che sono indiretti il fatto che questa gente comunque ha bisogno e viene controllata dalle forze dell'ordine per tutta una serie di verifiche dal Dipartimento Prevenzione per tutta un'altra questione sanitaria quindi ci sono tutta una serie di costi indiretti che vanno a gravare la sua comunità locale tutto questo messo assieme sta indispettendo ovviamente i sindaci da portarli all'esasperazione la Lega ormai ha visto che l'Anci non sta funzionando se pensiamo che il presidente dell'Anci è Piero Fassino sindaco di Torino ma del PD è chiaro che come si dice qua da noi Cano Magna Can è difficile che questo vada contro il governo e quindi lo dica lei io faccio solo da moderatrice le faccio le domande non commento oggi è un po' è un po' parziale più che imparziale e quindi di fatto non ci dà quelle prospettive che sono quelle per l'autunno che noi non vediamo così rosio non tanto solo per la regione ma anche mi metto nei panni di questi sindaci che non sono in grado di far quadrare i propri bilanci quindi l'Anci se vuole riassumere o ritrovare quella credibilità importante che deve avere deve anche imporsi sui tavoli di governo e dire guardate che la rotta che state imboccando è quella sbagliata e adesso usciranno quelli della Lega ma fra poco usciranno anche quelli del PD perché i sindaci sono tutti sindaci e rispondono davanti ai cittadini prima ancora di essere appartenenti a una casacca politica bene tutti tutti anche lei risponde ai cittadini infatti la ringrazio per essere stato qua con noi i 20 minuti a disposizione vice governatore sono già terminati volano io spero che lei torni presto a trovarci anche perché è il nostro punto di riferimento nella regione del Veneto quindi magari ci porta un po' di aggiornamenti speriamo anche di note positive più che volentieri speriamo di parlare di cose positive bene io ringrazio il vice governatore della regione del Veneto Gianluca Forcolin per essere stato ospite qui da noi ringrazio i telespettatori per l'attenzione ricordo l'appuntamento con 20 minuti veneti alla prossima settimana sempre su questa emittente ed ora buona continuazione di programma grazie a tutti